Ciao, tu dormi nei cartoni perché li trovi più comodi? Dormi nei cartoni perché li trovi più comodi? Sì, il croccato Tu dai materassi? Sì, trovo i materassi Sì, sì Tu fai il parcheggiatore? Sì, sì Quanti anni è che sei qua? Io ho già quattro anni qua Quattro anni Ma la tua famiglia? È molto giusta Sei rimasto solo? No Natale, come puoi passare qua? Si senti Natale? Come puoi aspettare Natale? Sì, sta arrivando o no? No, 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 qua, vai passare qua Non viene nessuno Non c'è nessuno più qua Io sono solo, sono famiglia tutta morta Dieci, quindici morte Mi muorevo quindici La solitudine è brutta Sì Io ho campato solo Però Hai votato qua La missione Che fai la missione giornata? Sono bene Ora Ti fanno stare bene qui, no? Sì Sto bene, ora Romo Mangio Faccio doccia Pulire Tu lo stai aspettando il Natale, no? Sì Sì Quanti anni hai tu? Io ho 65 6-5 Sei giovane ancora? Sì, ancora Ancora da Sperugli Ancora da Sperugli Che bello che sei Me lo dici il tuo nome? Eh? Il tuo nome? Giuseppe Giuseppe Come il patriarca Eh? Come il papà di Gesù